Abbiamo avuto un attimo di sbandamento, naturalmente, dopo soprattutto il gol. Un errore che ogni tanto può capitare, sono di quegli errori, è come quando un attaccante a porta vuota, un metro alla porta lo sbaglia, può succedere. Però siamo stati molto bravi a rimanere in partita, a lavorare ai fianchi spesso il Pescara. Abbiamo dato intensità al gioco, nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo, secondo me, meritato di andare in vantaggio perché abbiamo avuto grande intensità. Abbiamo cercato di chiudere un po' le fonti di gioco del Pescara perché se gli dà il palleggio al Pescara è finito e noi invece abbiamo lavorato lì a quattro cercando di chiudere centralmente e magari dargli qualche possibilità esterna. E poi, dopo il gol, secondo me, la squadra poteva chiudere la partita in tre o quattro occasioni. È stato fenomenale il portiere, il migliore in campo, secondo me. Abbiamo avuto il torto di non chiuderla e negli ultimi secondi addirittura di non tenere palla quando avevamo la possibilità di farlo perché il Pescara in realtà negli ultimi minuti era scoraggiato. Invece noi abbiamo concesso un'occasione incredibile all'ultimo secondo ed è questo che dobbiamo migliorare. Però sulla partita è stata assolutamente meritata. Questa era una vittoria importante per voi perché questo era uno scontro diretto salvezza. Cosa significa per il Brescia aver vinto questa gala? Significa tanto, soprattutto per il morale, per la fiducia e per l'autostima. Era da un po' che non si vinceva, quindi questo è stato molto importante. Noi nelle ultime cinque partite ne avevamo fatte quattro fuori, quattro trasferte, quindi in casa avevamo giocato poco. Quindi è importantissimo, è anche uno scontro diretto, è importante perché abbiamo un'altra partita in casa giorno 3 e dobbiamo tirarci fuori al più presto da una situazione che a noi non piaceva per niente. Devo ringraziare però i ragazzi perché senza di loro non si fa niente. Hanno avuto grande cuore, grande coraggio, grandissime intensità e anche delle grandi giocate. L'ultima, mister, noi ci aspettavamo il classico suo 4-3-3, invece ha giocato con Bisoli e il doppio attaccante grande. Perché questa scelta? Perché abbiamo comunque visto che spesso il Pescara soffriva gli inserimenti e quando gioca con due attaccanti contro vicini hanno qualche difficoltà e soprattutto perché volevo che Bisoli andasse a lavorare su Brugman in fase di non possesso. L'ha fatto bene prima lui e poi benissimo Spalek.